Dopo essere arrivato al porto, il padre trovò un'amara sorpresa. La nave era stata tutta spogliata dei beni che gli appartenevano, per compensare tutti i creditori. Al povero uomo non restò altro che tornarsene, triste e malinconico, da dove era venuto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Al prossimo episodio